Volevo morire povero ma non volevo morire schiavo. È così che tutto è cominciato, è così che è iniziata l'esperienza di tax planning internazionale da un'esigenza di indipendenza finanziaria e personale. Ero schiavo come te dell'Italia, ero schiavo delle tasse, ero schiavo del lavoro. Desideravo un'indipendenza, l'indipendenza che mi portasse a massimizzare i miei ricavi e la mia libertà personale. Oggi i nostri clienti ci chiedono strutture fiscalmente più leggere, ci chiedono offshore banking funzionale, e ci chiedono una protezione patrimoniale che funzioni e che duri nel tempo anche in ottica di successione e donazione nei confronti dei propri figli o di quelli che verranno. Oggi i nostri clienti ci chiedono di vivere a Dubai, di vivere in Portogallo, vogliono comprare asset immobiliari in Thailandia, a Bali, a Miami, vogliono avere un secondo passaporto, vogliono avere dei conti correnti personali offshore completamente legali e sicuri. In una parola, oggi i nostri clienti ci chiedono un approccio olistico multigiurisdizionale. Ci chiedono cioè di conoscere quali sono tutte le loro possibilità al di là del confine. E lo vogliono sapere subito, non vogliono parlare con 20-30 professionisti di altrettanti paesi diversi e probabilmente anche di lingue diverse. Oggi Tax Planning Internazionale offre ai nostri clienti la possibilità di ricomporre tutti i pezzi del puzzle su un'unica scrivania, in un unico mosaico. Ciò che ci differenzia dagli altri è che qui non esistono soluzioni predefinite. Ogni cliente è un caso a sé e ogni cliente viene accompagnato a seconda delle proprie esigenze prima personali e poi fiscali per mano, passo dopo passo. In un mondo che va a una velocità folle, il trasferimento di residenza fiscale, che oggi è diventato probabilmente di moda troppo, da solo non basta. È forse il primo passaggio da prendere in considerazione se si va incontro alla volontà di un cambiamento radicale e permanente della propria vita personale, finanziaria e fiscale. Ma da solo non basta. Soprattutto deve essere fatto sotto il controllo di un esperto fiscalista, ma soprattutto di chi queste cose le ha fatte e le fa da oltre 20 anni. Come dicevo all'inizio, Tax Planning Internazionale nasce da un'esigenza personale. Io stesso avrei voluto che Tax Planning Internazionale fosse stato lì per me quando 20 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa implementavo, cercavo, andavo alla ricerca della struttura perfetta, del paradiso fiscale perfetto, ma più che altro di una struttura che mi consentisse di vivere la vita che oggi io vivo in giro per il mondo con il massimo della flessibilità, il massimo della sicurezza sotto un profilo patrimoniale e personale e il massimo dell'indipendenza. Noi siamo gli unici, obiettivamente, carta alla mano, che hanno un background di diritto tributario internazionale e che girano il mondo alla ricerca delle migliori opportunità. Perché vedi, una cosa è la teoria, è quello che dice il libro, è quello che dice la legge, una cosa è la pratica ed è questo il motivo per cui da oltre 20 anni io giro il mondo alla ricerca di strutture solide, ma soprattutto di un network internazionale di persone affidabili ed è esattamente quello che manca a te, perché è esattamente quello che manca lì fuori nel web. Molto spesso ti offrono soluzioni facili a portata di mano, c'è chi ti garantisce un trasferimento di residenza in un determinato paese piuttosto che un conto corrente bancario in un altro paese, ma nessuno ti dà il quadro a 360 gradi delle tue possibilità e soprattutto di come i pezzi che ti offrono singolarmente di costruirti si incastrino e soprattutto se si incastrino, perché è questo che fa tutta la differenza nel mondo nel corso di una vita imprenditoriale e fiscale che dura 10, 20, 30 anni e che ha necessità di monitoraggio costante. Questo monitoraggio costante può essere fatto però soltanto con professionisti schillati, adeguatamente formati, che girano il mondo nella realtà dei fatti e che lavorano con un network internazionale in oltre 50 paesi da oltre 20 anni. Oggi il trasferimento di residenza fiscale è solo il primo passo da prendere in considerazione se si vuole raggiungere un successo personale, finanziario e fiscale, ma tutto il resto non può essere lasciato in secondo piano. Oggi se non diversifichi sei finito e questo è quello cui mira il nostro piano olistico, la possibilità di avere più asset in diversi paesi nel rispetto delle normative al fine di poter vivere una vita indipendente sotto un profilo finanziario e una vita libera sotto il profilo personale. Partiamo dai tuoi obiettivi per arrivare a costruirti un piano che funzioni per te e per la tua famiglia ed è questo il motivo per cui non esistono soluzioni standardizzate, ma solo soluzioni su misura.